Bersoglio, 30 metri! L'auto, lo vedo! Nemici, sono vicini! Oh, povera! Entrui me! L'auto! Lo vedo! L'emici è lo scoperto! Inizio! Mi giro il camion! Fornitemi copertura! Ricevuto! Obe! Parate! Ora! Buoniamoci! Non hai capito? Bello! Ti frigo con quest'arma! Bene! Bersaglia al mano di grande! Versagli in avvicinamento Versagli al molo di carico Non fermarti, Kyle Ci siamo quasi Sì, signore Mamma mia ragazzi E una Cariche pronte Oh cazzo E' chiaro Voglio subito Mosca in linea Ripeto Markov sta scappando Guarda Guarda Non mi importa Se l'ho io E' chiaro Voglio subito Mosca in linea Capito Dite che incendi Cosa? Carisma Eccolo Eccolo Mi ha fregato subito Che corpo Ok Il checkpoint L'avevamo appena salvato Ragazzi Mamma mia ragazzi Mamma mia Dai, dai, dai Continua Mamma mia Continua 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 Te lo ci ha detto Molti anni fa Il tuo paese E' un po' di terroristi E' un po' di terroristi No Aspetta Io Sono Karim Adios Amigos Mamma mia ragazzi Finalmente Cazzo C'è Alex giù però Via libera Ricevuto A tutte le unità Al mio segnale 3 2 1 Karim La madre russia Approverebbe Dove si va? Urzikstan Casa Te? Sì Era la cosa più alcolica Che avevano La russia ha rinnegato Barkov Non avevano molta scelta E' morto Hai risolto buona parte Di quel problema Per ora Ma se rinunciamo Non succederà Il generale Shepard Ha procurato i file Che volevi Di che si tratta esattamente? Una task force Troppe questioni in sospeso E io le risolverò Finanzio delle risorse Non dei fuorilegge Buon tè allora Zakaev vuole il trono di Barkov L'ho quasi sotterrato a Pripyat Con Macmillan Parli del padre Questo è il figlio Victor Famiglia adorabile Sono sostenitori di Adir Questo spiega perché è ancora vivo Lo faranno uscire Allora dammi quello che mi serve Chi hai con te? Il Sargente Garrick Kyle? Lo chiamano Gaz Non l'ha mai detto John McTavish SS Cecchino Demolizioni È chiamato SOAP Perché? È un segreto Poi c'è Simon Riley Non c'è la foto? No mai Quanto agli altri Non te lo posso dire A meno che non ci accordiamo Come chiamerai la task force? 141 Mamma mia ragazzi È stato veramente stupendo Questo gioco è stato veramente stupendo Mi dispiace che sia già finita la campagna Mamma mia Ok ragazzi È stato un vero piacere Condividere con voi Questa campagna Noi ci vediamo Ai prossimi appuntamenti Porteremo chiaramente Modalità multigiocatore E Alla prossima ragazzi Ciao a tutti Noi ci vediamo 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 La città è in evacuazione. Alcatala ha il controllo totale. Questo era proprio un bel posto. Ora non lo è più. Est e ovest ricostruirono Verdansk dopo la guerra fredda. Ad Alcatala non andava giù. Ora hanno armi pesanti e blindati. Terroristi con carri armati. Chi è il comando? Un volto nuovo. Ah, bene. Il suo nome? Non lo sappiamo, ma ha amici importanti. Sono informazioni russe. Da dove vengono? La mia controparte a Mosca. La CIA collabora con l'FSB. È già successo. Kamarov. Capitano Price, Nikolai, non ti sei comportato bene. Detto da te, ho un complimento. Dai. Siamo amici qui. Te lo devo. Per Beirut. Kamarov si assisterà in questa operazione. Con queste armi, Alcatala è in grado di passare da atti di terrorismo ad azioni di guerra. È un problema per tutti. Daremo la caccia al nuovo leader di Alcatala. In questo modo conterremo la minaccia. D'accordo. Diteci cosa fare e lo faremo. Diteci cosa faremo. Diteci cosa faremo. Diteci cosa faremo. Diteci cosa faremo.